Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Credo che Caldoro abbia operato bene, ma da qui a dire che sarà lui il candidato del centrodestra ce ne passa. Un po' confuso il senatore? Niente affatto. Ha detto con estrema chiarezza, ma con grande garbo, che Caldoro ha lavorato male. Grazie.